Salve, sono Nassica Wild, questa è una piccola introduzione sulla pittura acrilica dividerò il video in due parti la prima è una piccola introduzione sulla pittura acrilica in generale e sui colori e sul materiale, pennelli eccetera e nella seconda pratica, una dimostrazione pratica dove rappresenterò il cielo il cielo perché è diciamo l'elemento principale anche quando disegniamo un paesaggio può essere anche un ottimo sottofondo quando fate un ritratto ecco, è una cosa stupenda, quindi iniziamo appunto ora vi faccio vedere una cosa questo è un quadro acrilico fatto su tela lo metto qua vicino a un quadro a olio, sempre su tela, vedete? a bene che ho usato anche diversi colori per rappresentare il cielo perché qua volevo rappresentare la luce del sole, vedete? e invece qua era un tramonto, quasi sera quindi in due località diverse qua sarebbe una spiaggia un pochino calda, di un paese caldo questo è il tramonto in un paese freddo dove vivo io comunque vabbè, sono degli esempi adesso che faccio il cielo esprime veramente, è come rendere quando disegni il cielo è come dare l'espressione al paesaggio stai donando proprio l'espressione perché in inverno per esempio c'è le luci fredde in estate è caldo, il sole, il cielo, quando piove ecco, cambia sempre colore, no? è come dare proprio un'espressione questo invece sempre ad acrilico l'ho fatto invece su carta ecco perché ha il suo fashion, ha la pittura acrilica perché è molto versatile si adatta a tutto, sulla tela, sul legno, sulla carta con molta facilità, ecco ed è facile da gestire poi ecco, i quadri acrilici, ripeto danno o una consistenza se la usate appunto può rendere l'effetto di un colore a olio ma lo potete anche usare su carta diluvendolo con tanta acqua diventa quasi acquarello diventa molto leggero tipo velature, ecco quindi vedete voi ecco, vi troverete meglio poi sperimentate un pochino se vi trovate meglio a gestirlo con tanti colori con pochi colori ma di questo ne parleremo dopo in altri video io sto facendo soltanto vedere degli esempi ora vi faccio una piccola introduzione sui colori se non avrei acquistato un colore i colori non sai da dove iniziare non lo so ci sono principianti qui o anche non questo video è dedicato a tutti anche agli esperti perché parliamo in generale un pochino di tutto di marchi, di colori comunque questa è una confezione base, no? sapete i kit che ci hanno ecco, 12 colori che comunque li include tutti quelli primari ci sta un rosso ci sta il blu e ci sta il giallo e comunque anche il bianco è molto importante poi c'è altri colori secondari come il verde ma io solitamente ricavo i secondari dal primario ma non so se avrò tempo di fare adesso il discorso dei colori qua o nel prossimo vabbè iniziamo comunque con questa piccola introduzione quindi o comprare un kit però il kit solitamente ha dei tubi molto piccoli vedete 12 millilitri o c'è chi c'è una 30 mi sembra millilitri mi sembra dipende dai kit che avete dipende dalle marche insomma questo è un esempio oppure potete acquistare direttamente a scegliete voi no? o comprate i tubi magari o da 250 millilitri poi dipende da voi se disegnate in grandi formati se magari volete disegnare grande su tela ecco vi consiglio almeno di questo formato qua poi vi durano tanto eh io questo ce l'ho da tre anni e non è ancora secco cioè vedete lo uso subito senza problemi mi si secca semmai al limite un pochino qua rimuovo ed è pronto per l'uso cioè dentro è veramente sempre ecco dopo tre anni ecco come se fosse nuovo quindi rimangono nel tempo se li conservate li dovete però chiudere bene e consiglio di conservarli in un posto appunto poco esposto al sole magari in una scatola poi questa è un'altra marca ottima la Mammeri italiana poi ci sono altre marche che adesso vi farò vedere qua tra cui la Winsor & Newton che è una delle migliori ecco conosco pittori che fanno dei quadri fantastici proprio con questo questa marca che è questo formato qua acquista proprio questo colore qua galleria della Winsor & Newton è un paesaggista che conosco che fa dei quadri stupendi veramente usa sempre questa marca qua è una delle migliori poi dipende dalle scelte comunque questa è un'altra marca che mi piace tantissimo Lucas è una marca tedesca che ecco mi piace tantissimo anche questo formato è molto facile da gestire secondo me ancora più di questo questo è un pochino complicato però vabbè ecco i colori magari che produce ecco ci sono dei colori che purtroppo magari capite io quindi compro diverse ecco sono una che sperimenta anche perché questa è un'altra cosa dovete sapere una cosa che i risultati io qua ho usato per esempio due marchi diverse di colori però ecco vedete non mi danno problemi potete mischiare le marche capite danno dei risultati ottimi basta che acrilico è quello che consiglio è comunque guardate anche il marchio che AP che sono marchi appunto diciamo riconosciuti dal gruppo internazionale degli artisti di belle arti cioè una marca appunto è una specie di marchio che garantisce la qualità del prodotto eccolo vedete questo bollino AP ce l'hanno tutti quindi io consiglio i prodotti che hanno il bollino quindi AP vedete che garantiscono anche la sicurezza normativa di legge eccetera eccetera comunque sono riconosciuti dall'associazione artisti internazionale adesso ecco questa è anche un'altra marca buona è sempre questa è la stessa marca di questa inglese è una marca anche questa abbastanza buona che anche questa è riconosciuta vedete questo è un formato superiore allora perché faccio vedere così sono i colori primari quindi o scegliete di investire facendo un piccolo kit o scegliete appunto di comprare i colori primari e il bianco io il nero ecco io per esempio sono stata per anni senza nero agrilico adesso l'ho comprato sono scelte dipende poi cosa volete fare se volete fare dei paesaggi il nero potete farne a meno potete anche ricavarlo mischiando dipende cosa volete fare se magari volete fare un ritratto sapete quelli moderni tipo effetto inchiostro allora ecco il nero è essenziale dipende cosa dovete fare ecco quindi comunque per chi volesse iniziare adesso parliamo di cielo e paesaggi ripeto io questo quadro ho fatto in agrilico l'ho usato soltanto tre colori vi dico quali blu ultramarine ok blu ultramarine rosso e ho usato questo rosso qua all'azare in crimson e poi ho usato il bianco questi effetti violetto indaco l'ho usato appunto mischiando questi due e poi le sfumature del cielo bianco e anche diluendo l'azzurro bianco e blu poi farò la dimostrazione ripeto pratica quindi e forse mi sembra che ho usato ecco ecco basta potete fare anche una variante di questo cielo dando anche un effetto luminoso anche nei cieli tipo questo vedete e qui vi serve anche il giallo comunque questi colori primari potete fare anche dei paesaggi ecco adesso vi faccio vedere un prato anche qui io ho usato soltanto pochi colori vedete io il verde l'ho ricavato mischiando il blu e il il blu e il rosso scusate il blu e il giallo blu e il giallo i tronchi ho usato un po' di rosso anche ma ecco non è adesso il video adesso parliamo soltanto della piccola introduzione ecco anche questo vedete questa tavolozza addirittura l'arcobaleno di sette colori io questo quadro l'ho fatto usando quattro colori quattro quindi quello che consiglio ripeto o vi comprate una palette di queste ok oppure io personalmente però consiglio personalmente di comprare invece investire magari su un formato tipo questo che è 250 ml eccolo qua ok e di comprare un colore freddo e un colore caldo nel senso che per esempio un rosso questo qua è cadminio rosso cadminio e questo è rosso al azare in crimson poi vi farò vedere nella dimostrazione pratica le differenze tra il colore caldo e il freddo adesso qua non riesco appunto a dipingere perché non mi sono attrezzato lo faccio nel secondo quindi un verde freddo scusate un giallo freddo e un giallo caldo ecco questo è il cadminio un pochino più caldo e questo è un cadminio più freddo oppure ecco il giallo limone potete usare addirittura ce l'ho anche qua il giallo limone vedete ecco il giallo più limone quello che consiglio io personalmente poi io sono un amante della vittura impressionista che punta molto sul caldo e sul freddo quindi ecco io quello che consiglierei è questo quindi giallo caldo e giallo freddo poi vedete voi quello che preferite questo rivedo ad esempio il cadminio blu quindi rivedo è un blu ultramarino e poi il blu questo è un blu chiaro potete usare il blu cellulone blu si chiama oppure vedete voi un altro azzurrino leggero vedete voi lo farò nel secondo video scusate perché non ho tempo qua di includere non scordatevi il bianco in alternativa aggiungete anche delle terre se volete i colori terra questa è terra di siena bruciata e terra di siena quella normale no? ecco volendo ecco potete quindi diventano sei colori sette otto nove dipende dalle tasche al prossimo video spiegherò i pennelli nel prossimo scusate ma ho solo dieci minuti a presto